Ciao amici, oggi andiamo a fare una maschera balsamo con risciacquo o senza risciacquo alla base di gel di semi di lino che ho preparato precedentemente allora, cosa ci servirà per fare questo balsamo? c'è il semi di lino naturalmente, dell'acqua demineralizzata io ho preparato l'estratto glicerico di calendula e carcadee eccolo qua, ho utilizzato questo l'olio litro di lavanda e melissa olio di cocco, olio di ricino, ester coat e poi in fase C vedremo che cosa mettere mano a mano ora procediamo, io ho già pesato gli ingredienti qui abbiamo tutta la fase A con l'acqua, i semi di lino, naturalmente la ricetta è giù nell'info box qui abbiamo i nostri oli, ora vado a scaldare a bagnomaria la mia fase A per poi unire il tutto una volta ho unito le due fasi, non stavo registrando bene, ho unito le due fasi, vado a mescolare attentamente allora ho deciso di aggiungere alla mia maschera il mallo di noci io ho i capelli neri e mi aiuta a tenerli molto scuri andiamo e ne aggiungiamo due cucchiaini ecco fatto e ora vado a mescolare bene eccoci tornati, una volta finito di frullare avremo questo composto sembra Nutella quasi quasi me lo mangio no scherzo adesso lo metterò nei capelli in posa per un bel paio d'ore poi laverò e vedremo il risultato finito allora ragazze questo è l'aspetto che hanno i miei capelli adesso sono due giorni che non li lavo e ora vado a mettere il mio composto sui capelli ho indossato i guanti altrimenti è un disastro lo dispongo dalla cute alle punte in questo modo così il mallo di noce aiuta tantissimo ai riflessi nei capelli scuri e chi ha i capelli biondi chiari e magari vuole renderli un attimino più scuri con un bel po' di applicazioni del mallo di noce hanno i riflessi più scuri riescono a ottenere dei colori più scuri naturalmente non copre i capelli bianchi a meno che voi non lo mettiate tutti i giorni però aiuta comunque ora continuo così e torno tra poco ecco qua ho terminato con l'applicazione ho messo su una pinza ora faccio le pulizie di casa faccio tutto e tra 4-5 ore vado a sciacquare i capelli a lavare i capelli e poi vi faccio vedere il risultato a dopo eccoci qua allora questo è il risultato dell'asciugatura naturale dopo l'applicazione del gel vi mostro come sono lucenti i capelli sono lucentissimi sono morbidi setosi avevano proprio bisogno di questo trattamento ve lo consiglio vivamente se lo fate scrivetelo giù nei commenti vi mando un caro abbraccio un bacio e buon spignato a tutti ciao ciao